ciao a tutti io sono il di landrofilo oggi recensione dell'albo speciale numero 29 la casa delle memorie che si ricollega al filone del pianeta dei morti quindi questo ciclo inventato da bilotta attenzione questa però è una storia di 160 pagine anche eventualmente a sé stante quindi non è necessario che voi abbiate letto anche i precedenti albi del legati alle cronache del pianeta dei morti quindi potete leggerlo anche indipendentemente dagli altri albi mentre per chi come me ha già avuto l'occasione di leggere altre storie apparse sul color fest nell'albo gigante legata al pianeta dei morti troverà magari qualche dettaglio in più in questa storia che si ricollega sempre alle vicende di dylan nel dylan dog del futuro un dylan del futuro molto freddo molto disperato che ha perso graucio a causa di un'invasione di zombie e quindi bilotta vuole presentarci questo universo parallelo dove dylan si dovrà destreggiare solo suo letto in questo per l'appunto pianeta dei morti una londra ormai invasa dai morti viventi adesso andremo a vedere nello specifico come si evolve quest'avventura e cosa ci vuole narrare bilotta in questa occasione ma prima sguardo generale la copertina di carnevale davvero molto molto bella dylan guardate un'espressione molto buona dylan che in questa in queste cronache dal pianeta dei morti dovrebbe avere sulla sessantina d'anni molto dettagliato il disegno forse degli zombie un pochino troppo sesquatch quindi non sono degli zombie particolarmente aggressivi o paurosi sembrano più dei mostri delle paludi sembrano un po viscidi uno zombie un diciamo un disegno di zombie un pochino diverso dal solito comunque sempre molto bello molto bella la nuova grafica lo speciale è rimasto bianco solamente da questa parte mentre il bianco che da sempre contraddistingueva lo speciale anche davanti è stato rimosso per dare spazio a una colorazione uniforme in questo caso di un blu scuro copertina comunque molto molto azzecata molto bene riprodotta anche la pistola bodeo che alcuni artisti disegnano con questo incavo e alcuni disegnano senza la pistola la pistola originale bodeo non non ha questa sorta di uncino che delimita il perimetro del grilletto comunque ognuno la disegna un po come vuole molto bello anche qui dylan dog con il riempimento con questi colori simboleggianti la bandiera del della gran bretagna dunque testa e sceneggiatura di alessandro bilotta e disegni di giampiero casertano di che cosa parla questa avventura come detto in fase di presentazione bilotta ci illustra ci presenta un universo parallelo dove dylan giunto ai giorni nostri deve fronteggiare una minaccia davvero incombente molto pericolosa gli zombie hanno invaso praticamente tutta londra poi apro e chiudo la parentesi cosa ci fanno tiziano sclavi angelo stanno qui molto simpatica questa nota da parte di bilotta guardate poi tiziano sclavi come è stato disegnato davvero molto bene da casertano e sui disegni di casertano ci arriviamo dopo perché c'è davvero molto da dire in termini positivi dicevo dylan che si vede costretto a fronteggiare questa paurosa minaccia dylan viene messo a capo anche di una squadra speciale di un nucleo speciale di scotland yard un nucleo che servirà in qualche modo a combattere questa minaccia zombie quindi tanti indagatori dell'incubo vengono messi vengono istruiti proprio da dylan che però in questa occasione in questa precisa storia si dimostra un pochino trasandato nelle altre avventure sempre facenti parte delle cronache dei pianeti dei morti dylan era forse un pochino più deciso ancora più diciamo legato alla vita mentre in questa storia dylan tenta quasi il suicidio insomma un dylan che si lascia fin troppo andare in questa avventura questa storia questo concetto di dylan che si lascia andare farà entrare parte di questa storia anche la morte quindi è un escamotaggio diciamo per inserire anche la morte in questa avventura da parte di bilotta quindi in questa occasione diciamo un dylan più trasandato e più depresso che serve per fare entrare un altro personaggio fondamentale che è la morte che diciamo troverà a sua volta le delle difficoltà nel vivere in questa situazione dove i morti in realtà non sono morti quindi continue fasi di stallo fra la vita e la morte anche la morte non sa più cosa fare perché i morti non muovi non muoiono e quindi c'è davvero poco lavoro da da svolgere dunque come si articola questa storia praticamente ci viene narrato a 360 gradi un po la situazione generale famiglie che hanno perso il figlio il figlio che diventato uno zombie zombie generici e attenzione bilotta inserisce in questa avventura una novità oltre agli zombie e al loro mondo viene viene inserito anche il mondo dei degli immemori che sarebbero delle persone che vogliono dimenticare tutto questo disastro tutta questa brutta vita e si rifugiano in delle oasi che sarebbero una sottospecie di congregazioni nascoste in degli alberghi dove vanno tutti lì per dimenticare si fanno drogare insomma delle persone che vogliono sfuggire a questa brutta vita decidono di drogarsi all'interno di queste confraternite e dopo magari per un senso di rimorso decidono di tornare alla vita precedente rimangono completamente spiazzati non ricordano più niente perché sotto l'effetto di droga vogliono ritornare alla loro precedente vita e subiranno un impatto davvero molto forte perché le cose se le ricordavano diversamente magari hanno lasciato la loro famiglia quando si stava ancora tutti bene adesso che gli zombie hanno invaso londra si respira davvero un'area molto difficile queste persone pensano di ritornare a casa dalle loro moglie e dalle loro figlie dopo scoprono che gli zombie invece hanno invaso londra insomma un particolare scioccante che viene inserito da bilotta in questo in questa occasione cronica dal pianeta dei morti che avrà a quanto detto da recchioni una cadenza annuale quindi per vedere il seguito di questa storia dovremo aspettare settembre 2016 ci sarà un pochino di tempo diciamo di distanza fra questo e il seguito di questa storia dunque cosa dire quali sono gli aspetti salienti che contraddistinguono questa storia rispetto ad un'altra sempre legata alle croniche del pianeta dei morti allora dylan si presenta come detto prima più freddo più cinico dylan che non riesce più ad innamorarsi di alcuna ragazza perché ha perso quasi tutti i sentimenti dylan che proprio pensa alla sopravvivenza in primis e mette da parte tutto il resto addirittura le due o tre ragazze che incontra in questa avventura le farà fuori perché queste ragazze sono diventate degli zombie quindi lui non vuole più affezionarsi per non per non far più fatica a dimenticare quindi dylan decide di eliminare prontamente dei ricordi che eventualmente potrebbero essere davvero molto tristi quindi dylan che decide un po di mettere da parte i sentimenti e quindi a questo punto l'uomo senza sentimenti non va da nessuna parte di questa la morale un po che vuole mostrarci bilotta in questa occasione non c'è molto da dire come vedete in termini di trama perché semplicemente una daily routine che ci illustra un po la vita di dylan dog in questo nuovo mondo quindi non c'è una trama non c'è dylan che deve andare a sconfiggere qualcuno meglio sì dylan deve sconfiggere questi zombie ma oltre a questo non c'è nient'altro da dire niente colpi di scena se non qualche qualche scena d'azione ben riuscita insomma una daily routine di un dylan dog di un universo parallelo futuristico dove tutto è stato invaso dagli zombie quindi non c'è molto da dire da questo punto di vista cosa si può dire invece di interessante allora partiamo forse da qualche indecisione da parte di bilotta da qualche piccolo errorino qua e là allora la situazione è ambientata come detto fino adesso nel futuro ecco in determinate occasioni però c'è qualche oggetto tecnologico anacronistico ad esempio qui vedete da una parte dylan quando deve effettuare una chiamata utilizza un telefono super mega iper evoluto adesso qui non riesco a trovarlo comunque fidatevi da qualche parte c'è un telefono davvero dal design molto futuristico così come le sono futuristiche le funzioni ma d'altro canto dylan utilizza un computer che nemmeno nel 2009 era così primitivo qui si tratta di mac os x diciamo però questa versione del sistema operativo veniva utilizzata qualche anno fa figurarsi insomma è anacronistica con il contesto della storia così come è anacronistica l'auto di dylan che però può essere scusata dylan che utilizza ancora il maggiolino non il suo vecchio ma il modello quasi nuovo il maggiolino del 2000 per intenderci ecco qua il telefono super mega iper tecnologico che si scontra con altri elementi che così tecnologici non sono e non si adattano all'atmosfera generale dicevo l'unico elemento che può giustificarsi è il maggiolino di dylan dylan molto legato alle tradizioni non vuole utilizzare una macchina nuova moderna ma vuole rimanere al maggiolino almeno il modello del 2000 e insomma in generale comunque una storia che convince molto buona come idea molto diciamo bella e pronunciata questa quest'idea di proporre un dylan alternativo in un contesto davvero molto interessante però fatto sta che in termini di testa e sceneggiatura forse c'è un attimino di ripetivi insomma bilotta va un po ripetersi in determinate occasioni in altre storie legate alle croniche del pianeta dei morti questo questo difetto non c'era ecco invece in questa occasione in queste 160 pagine bilotta continua a proporre anche dei ragionamenti sulla vita e sulla morte che diventano però sempre 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 ripetitivi tante frasi che dylan scambia con le persone che incontrerà all'interno di questa storia purtroppo tenderanno a ripetersi tante tante volte questa è un un leggero dettaglio che va un po a stonare su questa storia che è comunque molto molto bella un piccolo difetto potrebbe essere questo la ripetiti ripetività di alcune di alcuni dialoghi ora parliamo dei disegni invece di giampiego casertano che praticamente sono perfetti è la prima volta in assoluto che non ho niente da dire in termini negativi sui disegni di un determinato albo di dylan dog casertano che in questi ultimi tempi ha maturato uno stile di disegno praticamente perfetto non sono riuscito nonostante la mia pignoleria e sapete il dylan dogofilo va sempre a cercare il pelo nell'uovo questa volta non sono riuscito a trovarlo disegni praticamente perfetti che soddisfano da ogni punto di vista non c'è un'imperfezione non c'è un errore tutto è stato è stato ricreato in maniera praticamente perfetta a partire dal volto di dylan alle espressioni ai movimenti ai giochi di prospettiva davvero è tutto praticamente perfetto soprattutto un plazo a casertano per aver disegnato così bene le donne che vengono create dalla sua matita davvero in maniera molto molto convincente delle donne molto diverse da altri che magari non dicono più di tanto disegnate da altri disegnatori quelle donne sono più formose più diciamo più belle più femminili un tratto di femminilità che si nota soprattutto anche nelle espressioni facciali ben ricreate quindi sia per quanto riguarda il disegno degli zombie che appare molto molto deciso guardate qua che praticamente sono brutti ai disegni brutti nel senso che il personaggio disegnato è brutto ma i disegni sono davvero belli guardate la perfezione del del tratto le ombreggiature sono a loro volta molto molto belle disegni molto elaborati e soprattutto nelle scene che occupano tre quarti di pagina nelle vignette che vanno ad occupare tre quarti di pagina si nota tutta la maestria di questo artista che in questa occasione supera se stesso posso tranquillamente affermare giunti a questo punto che casertano è al momento l'artista che è più bravo nel disegnare di landorgo meglio l'artista che è riuscito a maturare maggiormente rispetto ad altri quindi casertano che in questa occasione presentata nello speciale numero 29 mostra al lettore che davvero è diventato un artista completo a 360 gradi casertano che è arrivato all'apice della bellezza dei suoi disegni vado a cercarvi l'ultima vignetta sempre per rimanere in tema disegni poi chiudiamo la recensione una vignetta che mi ha particolarmente colpito in termini positivi è stata questa guardate qui lo skyline di londra come è stato ricreato davvero molto bene il big ben è dettagliatissimo qui la ruota panoramica a sua volta è piena di dettagli diciamo dei disegni che sembrano quasi a tratti delle fotografie casertano che davvero in questa occasione supera se stesso ripeto caso più unico che raro non trovo non ho trovato un singolo difetto in nessuna di queste vignette che compongono in totale 160 pagine quindi storia in definitiva molto buona che presenta un dylan in un universo parallelo speriamo di ritrovare in futuro un'evoluzione di questo di queste cronache del pianeta dei morti che promettono molto bene voto finale che vado ad assegnare quest'albo un bel nove e mezzo per il momento è tutto se questa recensione ti è stata utile o se ti è piaciuta condividila dove vuoi con chi vuoi iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sul personaggio di dylan dog e noi ci vediamo in un prossimo video dedicato al mondo dell'indagatore del link